Ecco il comando io, e questa è casa mia, oggi ti voglio sapere, oggi ti voglio sapere Oh ciao, ciao belli, allora oggi sono tanto di buon amore, la vacca è andata su, la vacca è andata su, forza vola, ne hai vista una che vola, guarda che oggi sono un po' più in forma, no? Si, guarda che, hai visto la vacca che vola, andata su di prezzo, ehi vacca vitello, vitello della corsia, la femmina, tutto bello, tutto bello, 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 tanto contento, eh? Maiale giù, maiale, 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 proprio crollato, proprio maiale a terra, proprio maiale, mai visto una cosa così La scrofa di terza carriera, terza categoria, proprio finita, 0,32, guarda che può più niente, vale più niente Le ocche vanno bene, le ocche, le ocche hanno guadagnato, come sono le ocche? Ocche in allevamento da 4,50 a 6, guarda che giamba è presa, non è quello, che giamba è presa, non è? Allora, perché che, se vuoi vedere, che te ne copri i pulcini, poi dopo vengo, guarda che, non è, ma, è bello, eh? Guarda che è andata bella, vedi? Oh, è andata bene, ma la vacca è andata su, la vacca, oh, che bello la vacca è andata su, viva la vacca, viva la vacca Guardi, ho questi boss qua che, da un fastidio Comunque, te, se volete trovarvi bene, eh, ma veramente bene, venite da me, a mia casa Ho delle galline di 35 kg, porca locca, capisce? Ci chiamate qua, l'indirizzo mio, alla radio qua, che radio è quella? Mi dimentico di ogni volta Eh, qual'è qua? Rete, Rete Quarta, ci chiamate qua, Rete Quarta, mandate il coro, il mail Eh, venite a mia casa, bel pintone, il prezzo ve lo faccio io, ma roba, te, roba genuina, no, capite? No, ro, dio, e qui comando io, e queste cose, mio